Hanno finto di ristrutturare un antico immobile ubicato a Sala Consilina per ricevere fondi pubblici e con una serie di raggiri e artifici sono riusciti a riscuotere 200 mila euro e ad evadere imposte per decine di migliaia di euro. Così cinque imprenditori e un professionista sono riusciti a percepire illecitamente contributi erogati dalla regione Campania e cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea destinati a sostenere la creazione e lo sviluppo delle cosiddette micro imprese. Il progetto finanziato prevedeva la risistemazione di un palazzo nobiliare situato nel centro di Sala Consilina da adibire a struttura ricettiva con conseguente creazione di nuove opportunità di lavoro. Le investigazioni della tenenza di Sala Consilina hanno svelato che invece il progetto era stato ultimato solo sulla carta. I sei soggetti denunciati avevano infatti dimostrato mediante l'uso di false fatturazioni l'esecuzione dei lavori, l'acquisto degli arredi e delle attrezzature, il pagamento degli stessi e quindi la realizzazione del progetto finanziato. La Procura della Repubblica, dopo aver valutato il materiale probatorio raccolto, ha dichiarato concluse le indagini nei confronti dei sei soggetti ritenuti dunque responsabili.